Signori buongiorno, seduta ordinaria del 14 settembre 2021, ore 8.32, primo appello, prego signora Meccia. Aresu? Assente. Cannella? Assente. Cosentino? Assente. Limuli? Presente. Assente. Maraventano? Assente. Nona? Assente. Sino? Assente. Susinno? Assente. Tumbarello? Assente. Valenti? Assente. Solo un presente, il Presidente. Costata l'assenza del nuovo legale, chiudo la seduta e la rinvio alle 9.32. Ok, a dopo. A dopo. A dopo, un abbraccio. 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 Grazie.